FACEVO L'ILLUSTRATORE Specializzato nella seconda guerra mondiale Ora scrivo a malapena il mio nome Ho saputo quello che ti è successo L'hanno aggredito in cinque E' vivo per miracolo Prendi le medicine Mi hanno quasi picchiato a morte Senza motivo Un passo alla volta Ci sei, Mark Abbraccia il dolore Ma ho creato un mondo dove posso guarire Che cos'è questa roba? Benvenuta a Marwen E' la mia installazione Sei un artista? E' una storia complicata Raccontamela Davvero vuoi saperla? Sì Mi hanno tolto dalla testa a calci tutti i ricordi Non è rimasto niente di quello che c'era Ora le mie bambole raccontano la storia Queste sono le donne di Marwen E proteggono Mark? Siamo una cosa sola noi Dai cattivi Andiamo Munizioni! Servono munizioni! Stavi urlando che vuoi che ti servano la colazione? No colazione No colazione Le bambole di Marwen sono persone che conosci? Sì, c'è Anna Da Da Julie Sì, cavolo Carlala Non puoi continuare a scappare dai tuoi problemi Roberta Sarai presente in tribunale Devi guardare in faccia chi ti ha picchiato Non sono sicuro di come farlo Il dolore è il nostro propellente La vita che avevo mi è stata portata via Però sono qui Ho speranza Ho la mia città E ho le mie amiche Ti copriamo le spalle Io ce la farò Tutto è possibile a Marwen Si brinda ragazze? La gente deve vedere quanto davvero è speciale Marwen Alla vita All'amore Alle donne di Marwen Alla vita 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 Alla vita